www.cdc.it 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 Sorridi, sorridi, che finalmente ce l'hai fatta, guardami! Risposare! Noi vorremmo andare a questo matrimonio. Infatti! Perché non in Italia? Perché in Italia non si possano sposare due donne insieme. Perché? Mamma! Signori, signori, per contesia ho bisogno della vostra attenzione. Un momentino. Per tutti coloro che sono d'accordo del matrimonio, lei disse sì, alzino la mano! Uno, due, tre! C convince di avvisi Raffaele People conoscere